testiamo molto rapidamente questo sound air ss330 esteticamente una simil copia dei colt insomma ci assomiglia dai questa radio è stata lavorata dal precedente proprietario io l'ho avuta da poco sono state messe due classi di potenza una a 4 watt una a 10 tirando il pomello high cut è stato inserito un echo major e sono state messe le tre bande da 40 canali luna quindi adesso ci mettiamo 45 usando un microfono cte sentiamo innanzitutto il beep major classico guardiamo come funziona una vg ola 1 2 3 prova ola prova ola proviamo adesso in alta potenza ola 1 2 3 prova ola 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 in alta potenza un po tirata per i capelli va un po all'indietro ascoltiamo con la nostra solita radio di riferimento inserendo anche l'eco a questo punto già si sente la molla in partenza l'eco è stato regolato molto bene secondo me rispetto alla voce è un bel sottofondo una bella schitarrata cambio se poi caliamo la potenza 4 watt la voce acquista corposità il segnale non si sposta questo non è una radio che fa dei picchi però ecco dai la voce bella la voce bella e l'eco è un bel sottofondo vediamo se qualcuno ascolta questa chitarra maio cambio cambio bello 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 una bella coda una bella radio fatta bene